E poi cos'è successo? Tutto il mondo si è fermato. Erano chiuse le scuole, i negozi... Anche quelli dei giocattoli. Le città erano deserte, si sentiva solo il rumore delle sirene. E poi tutte le persone si sono unite e hanno sconfitto il virus cattivo. E così hanno potuto tornare ad abbracciarsi, ma soprattutto... Soprattutto cosa? Soprattutto a farsi sabetico! Soprattutto a farsi sabetico!